attacchiamo l'altra, questa ci sei in pieno tu guarda che bello che fa stare attento tanto al davanti o l'altra ci sei in pieno il futuro del futuro che stai attaccando e ci sei in pieno che sono un'imperiore che è il momento che sono in pieno che stai attaccando oltre a un'imperiore che è in pieno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.